Sì, è che qua. Oh, sono colpente, maca. C'è il tuo? C'è il tuo? No, non mi ha sentito. Io quando c'era la creatura che aveva il ritorno, facevo l'istruzione, provo più giusto, non lo faccio. Non lo faccio, mi stai io. No, ma ne sono sti torno. Quando era la creatura che aveva il ritorno, mi dicevano, cantavo un tamo siero, c'era un cristiano che faceva tanta cosa. non sa ci dovrò che c'è tanto giro che faceva diventare un pesce tanto vicino e poi contavano che quando vanno tutto faceva diventare un burro, un burro di soldi e se mi vede anche io che ho un fottiglione e vado a diventare